Era stato trasformato in casa di appuntamenti l'appartamento scovato dalla Polizia Municipale impegnata fino alle 6 di stamattina in un'operazione di verifica del rispetto e l'ordinanza decoro e sicurezza urbana. Da mezzanotte alle 6 Polizia Municipale e Assessore Daphne Musolino sotto la coordinazione del Sindaco sono stati infatti impegnati in servizi di vario tipo. Il Commissario Giardina insieme alla Polizia di Stato ha svolto un intervento di contrasto della prostituzione rompendo in un appartamento del centro che veniva usato come casa per appuntamenti. Qui hanno trovato due donne e un transessuale che svolgevano prestazioni sessuali a pagamento. Le persone sono state condotte alla caserma Caliper identificate e sono state avviate le indagini sull'immobile per il quale si procederà a chiedere il sequestro denunciando il proprietario per sfruttamento della prostituzione. Nell'appartamento sono stati trovati anche dei guaderni in cui venivano annotati i proventi dell'attività quotidiana che si attestavano mediamente sulle 500 euro. Contemporaneamente il Commissario Lamazza insieme agli ispettori di Stefano, Pistone, Famai e agli agenti Villera e Bertino hanno eseguito invece dei controlli sul territorio che hanno dato esiti favorevoli. Si è cominciato con il contrasto dell'ambulantata Piazza Duomo dove sono stati allontanati i venditori abusivi che avevano installato le bancarelle sulla piazza. È stato anche controllato e sequestrato un motorino che circolava a luci spente. Si è scoperto infatti che il mezzo era privo di assicurazione e di revisione. È stata ritirata carta di circolazione e patente del mezzo al conducente ed è stato verbalizzato che adesso dovrà pagare una multa di 4.405 euro. Per violazione dell'ordinanza sindacale Decoro è stato contravvenzionato il locale della Galleria Vittorio Emanuele per emissioni sonore oltre l'orario consentito. All'incrocio tra via Gariballi e via Cesare Battisti sono stati elevati i verbali per divieto di sosta ai numerosi avventori dei locali, soliti lasciare le vetture in doppia e tripla fila. Infine in via 24 Maggio è stata fermata una motoape che trasportava rifiuti senza avere l'autorizzazione per un tale tipo di trasporto e sul via Gariballi è stata sanzionata una ditta che aveva occupato la corsia preferenziale della strada con Cassone dove erano stati raccolti rifiuti derivanti dai lavori di ristrutturazione di un negozio di abbigliamento.